Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Fairy ASMR Oggi sono qui per registrarvi finalmente il video che mi avete richiesto in tantissimi sia qui su Youtube che su Instagram e cioè il Once on my phone che cosa c'è nel mio telefono in questo caso il mio Samsung Note 10 che vi ho mostrato tramite un unboxing qualche video fa vi ringrazio innanzitutto, ti ringrazio per aver scelto questo video per rilassarti e ti ricordo che manterrò per tutta la durata del video questo tono di voce sussurrato spero che possa tenerti compagnia e soprattutto che possa rasserenarti e farti perché no anche addormentare allora direi di iniziare immediatamente con il video e di mostrarti tutte le applicazioni che sono nel mio telefono e anche il modo in cui l'ho personalizzato tra l'altro ti mostro la Core che è questa glitterata e questa piastrina in metallo che ho attaccato per poter tenere fermo lo smartphone quando sono in automobile questo praticamente si attacca a un magnete che è posizionato sul cruscotto io la trovo davvero molto comodo dunque prima di iniziare però devo fare dei saluti in particolare saluto come al solito in ogni video chiacchiericcio 5 persone 5 persone a caso tra quelle che me lo hanno richiesto allora saluto Gabriele Santerini ciao Gabriele Franci 6 Tony A Gino Pino e Valeria Barone spero di aver pronunciato bene i vostri nick e di non aver sbagliato gli accenti e poi saluto anche l'ultima notifica di Instagram che vado a controllare proprio adesso l'ultima notifica di Instagram è di lori per scritto trattino basso punto lori trattino basso per punto trattino basso ciao se volete essere salutati anche voi in un prossimo video chiacchiericcio lasciate un commento qua sotto mi raccomando e andatemi naturalmente a seguire su Instagram se ancora non lo fate detto ciò direi di iniziare ok allora intanto fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace e lasciate ovviamente un like per farmelo capire dunque 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 come vedete nella primissima schermata c'è il widget del meteo che dice che in questo momento ci sono 30 gradi e il tempo è prevalentemente soleggiato che siamo a Roma e che è il 18 agosto poi ho messo come sfondo questo cielo stellato perché avevo assolutamente bisogno di uno sfondo scuro adoro il tema scuro e quindi trovo che sia più comodo nella prima pagina ci sono ovviamente le app più di più frequente utilizzo qui sotto che sono Spotify chiamate Whatsapp e la fotocamera poi sempre nella nella prima pagina ho scelto di mettere il widget del calendario che in questo momento non segna nessun evento in particolare poi c'è il motore di ricerca di Google e altre app di utilizzo frequente cioè Instagram Navigation che è praticamente il navigatore da usare quando sono in auto Maps che è praticamente l'app delle mappe di Google e Shazam per trovare le canzoni che magari sento alla radio oppure quando sono in giro e capire di quali canzoni si tratti poi andiamo alla seconda schermata allora abbiamo la calcolatrice YouTube Studio che è penso lo conosciate l'applicazione che utilizziamo noi creator per monitorare l'andamento del canale leggere i vostri commenti anche caricare i video mettere mi piace ai commenti insomma e pubblicare i post YouTube che invece è l'applicazione per guardare i video Google Lens che è una fotocamera che si può utilizzare anche come scanner dei QR code e a proposito dei QR code io vi invito a scannerizzare quelli che sono presenti all'interno della diario 100 smr se lo avete già acquistato perché sono già disponibili gli audio degli smr artist che hanno partecipato al progetto dell'agenda e al primo di ogni mese saranno disponibili anche gli audio speciali relativi agli argomenti dell'agenda insomma e trovate giù nell'info box il link per acquistarla direttamente su Amazon anche con il bonus scultura l'orologio semplicissimo apriamo un po' c'è anche il cronometro la sveglia fusi orari ok poi c'è MyCicero che è l'applicazione della non solo della mia città in realtà penso che valga anche per altre città d'Italia comunque è un'applicazione per il trasporto pubblico per pagare la tariffa del parcheggio insomma una serie di funzioni così registratore vocale che serve per registrare note vocali Play Store ovviamente per scaricare le varie applicazioni Chrome che è il mio browser di navigazione internet preferito poi Amazon Shopping che è l'applicazione per comprare le cose su Amazon Samsung Notes l'applicazione per scrivere le note perché vi ricordo che il Samsung Note ha questa particolarità del pennino che come vedete vi dà la possibilità di creare delle note e fare una serie di operazioni che però in questo momento non ci interessano quindi lo riponiamo poi c'è l'applicazione archivio per visualizzare tutti i file che sono all'interno del telefono documenti foto eccetera traduttore google traduttore penso non ci sia bisogno di spiegazioni glovo che utilizzo ogni tanto quando non ho molta voglia di uscire per fare la spesa quindi ordino del cibo da asbordo a proposito vi lascio proprio qui in sovrimpressione il mio codice sconto se volete scaricare l'app di glovo poi c'è la galleria dove sono tutte le mie immagini del telefono e gmail che è l'app per leggere la posta elettronica non solo di gmail in realtà e poi c'è il widget della wind che è un gestore telefonico che utilizzo poi andando qui con questa strana gesture nella parte delle app abbiamo 1,2,3,4 schermate di app e nella prima c'è pdf scanner che è un'app preimpostata preinstallata che serve per probabilmente scannerizzare i pdf non l'ho mai utilizzata di nuovo google lens alcune app vedrete che sono ripetute perché in questa schermata ci sono quelle di più frequente utilizzo mentre qui ci sono proprio tutte l'app documenti che è una sorta di microsoft word presentazioni che è una sorta di powerpoint non so se sia davvero powerpoint comunque come avrete capito non l'ho mai usata ancora fogli praticamente excel e nella cartella microsoft c'è la suite office onedrive outlook e linkedin outlook è il gestore della posta elettronica che non utilizzo però e onedrive è un cloud poi abbiamo tingles che è l'applicazione per guardare video smr senza la pubblicità e sono anche io su tingles mi trovate anche lì l'app da quel che ho capito ha cambiato qualcosina negli ultimi tempi e sembra che questi cambiamenti non siano stati molto apprezzati perché la maggior parte delle funzioni è diventata a pagamento non so per quale motivo abbiano deciso di adottare questi cambiamenti ma comunque io vi segnalo che sono anche lì poi instagram e se volete seguirmi anche lì mi chiamo feri smr e questo è il mio profilo che penso riusciate a vedere su instagram posto diverse foto di alcuni momenti della mia vita e soprattutto storie che mi aiutano a restare più in contatto con voi poi c'è tiktok anche lì potete andarmi a cercare sono ferie smr anche se pubblico un po' meno su tiktok devo essere sincera facebook snapchat che utilizzo solo per i filtri delle foto e dei video youtube studio di nuovo pinterest che è un altro social che mi piace moltissimo dove prendo un sacco di ispirazioni per disegni vestiti tanto altro youtube già ve l'ho detto netflix raiplay che è l'applicazione per riguardare i programmi della rai perché non guardo la tv però mi conviene tenere traccia di qualche programma interessante tipo un giorno un giorno in predura e poi youcat video editor che è un'applicazione per montare video che però non utilizzo e vq o vq player che è un player appunto per i video che in realtà è molto molto più carino del player integrato perché permette anche di guardare video in sottofondo quindi è comodo se nel frattempo che si naviga si vuole anche ascoltare un video pre-registrato samsung pass è un'applicazione che memorizza praticamente le password e credo serva anche per i pagamenti arriviamo alla seconda schermata che è più interessante abbiamo varie cartelle la cartella foto qui dentro ho tante applicazioni per modificare le foto e vi dico già da subito che non utilizzo tutte queste applicazioni ma di solito ne scarico un po' e le provo per un po' di settimane e poi decido quale mi piace di più al momento ho Snapseed che è molto valida Square Quick che serve solo per rendere quadrata una fotografia Lala Lab che mi piace molto e serve per stampare le foto You Collage che serve per fare collage Airbrush è carina B612 mi piace più di Airbrush Perfect 365 è molto carina ma per salvare le foto in alta qualità in realtà si deve passare alla versione premium e quindi così è un po' inutile Remove Unwanted Objects serve per rimuovere dalle foto oggetti non desiderati tipo persone che sono lì a rovinare i vostri bei paesaggi e poi ci sono due app di Photoshop che ho scaricato da pochissimo una è a top Photoshop fix e l'altra è Photoshop Express e non le sto usando moltissimo devo dire la verità però sono molto complete e valide poi c'è la cartella Google dove abbiamo Google Google Chrome Gmail Google Drive Google Cloud Google Play Film Duo che è una app di messaggistica credo per fare le videochiamate Google Photo Google Home per l'automotica e Google AdSense è un po' useless questa cartella a dire la verità poi c'è l'applicazione delle poste dove ho il conto corrente e l'app per prenotarsi all'ufficio postale e che altro post ID per l'identità digitale nell'applicazione chat scusate nella cartella chat abbiamo Zoom Skype Whatsapp Messenger e Hangout quindi le principali applicazioni con le quali messaggiare con gli amici oppure fare videochiamate poi la cartella shop contiene Amazon che avete già visto prima Wish che è un sito che vende articoli provenienti dalla Cina di ogni tipo e ogni tanto mi piace fare acquisti anche belli ebay Glovo lo avete già visto di Bob è un sito per la compra vendita di oggetti usati poi c'è Tukutuko che è veramente un'app molto molto valida e vi dà la lista in pratica dei supermercati o dei negozi di alimentari che sono vicini a voi oppure potete impostare la vostra località preferita che alla fine di ogni giornata riservano delle buste con all'interno i prodotti in scadenza che eliminerebbero se non venissero praticamente venduti tramite questa applicazione a chi prenota una bag e c'è un po' di tutto all'interno di una bag quindi è veramente molto interessante secondo me questa applicazione permette di risparmiare molto sulla spesa anche perché i prodotti sono solitamente buoni non mi è finora mai capitato che ci fossero prodotti troppo vecchi per poter essere mangiati bring è bellissima ed è un'applicazione per fare la spesa e praticamente allora continua con google ti dà in pratica la possibilità di fare la spesa aggiungendo i prodotti direttamente con un click per esempio una baguette la trovate qui oppure broccoli e belle profumate e poi una volta che avete acquistato i prodotti basta cliccare sopra e vengono eliminati dalla lista la cosa interessante è che potete condividere la vostra lista con i vostri familiari o conviventi e poi c'è H&M l'applicazione con la testa tra fedeltà di H&M nella cartella mobilità abbiamo invece Italo Treno ogni l'app per prendere il treno di nuovo mai cicero ritrova auto che è un'applicazione di cui potrei davvero fare a meno se solo mi impegnassi con la memoria oppure decidessi di utilizzare google chiedendogli di ricordarmi dove ho parcheggiato la mia auto ma siccome non faccio nessuna delle tue cose molto spesso mi trovo a dover memorizzare la posizione dell'automobile parcheggiata tramite questa applicazione AgiSpace che è di nuovo un'applicazione per il controllo delle pratiche relative all'automobile che ti avvisa quando scade il pollo quando devi rinnovare l'assicurazione eccetera e ShareNow è un servizio di car sharing su grafica c'è Canva che sto utilizzando veramente pochissimo non mi piace tanto la versione mobile mentre la versione desktop è più pratica sicuramente Emoji Maker che è un'applicazione per creare delle emoji Logo Maker che è un'applicazione per creare dei loghi Layout è un'app preimpostata di Instagram e Stories Edit che serve per creare delle stories di Instagram ma un po' più carine Poi nella cartella Pay ci sono varie banche Google Pay e Samsung Pay che sono i pass per pagare direttamente con l'NFG del telefono Vi salto quelle che già vi ho fatto vedere e Starwalk è un'applicazione bellissima che adesso vi apro anzi è Starwalk 2 questa serve per guardare le stelle che si trovano nel cielo posizionandolo posizionando lo smartphone puntandolo insomma verso le costellazioni vi dice quali sono le costellazioni che vedete in quel momento nel cielo è veramente bella questa è una delle emoji che ho usato più di tutte durante quest'estate poi c'è Treatwell che è un'applicazione molto comoda per individuare centri estetici parrucchieri monico-tecnici estetisti e quant'altro nelle vicinanze e prenotare dei trattamenti super scontati purtroppo io il 90% delle volte che ho prenotato tramite questa applicazione un trattamento mi sono trovata malissimo e ho avuto delle esperienze davvero pessime però credo sia un caso perché l'applicazione in realtà abbraccia tanti centri e insomma si può capitare bene o anche male non credo di tanto dall'applicazione Feed Prime è un'altra applicazione di cui vi ho parlato e per la quale ho a disposizione un codice sconto da darvi e questa è un'applicazione per la palestra quindi per sottoscrivere degli abbonamenti mensili o addirittura avere dei pass giornalieri a dei prezzi molto vantaggiosi in tutte le palestre della vostra zona il mio calendario è l'app per monitorare l'andamento del ciclo mestruale poi nella cartella domotica ho alcune applicazioni che riguardano le telecamere che sono presenti all'esterno all'interno della mia casa Play Music o Play Musica non la utilizzo io è l'app che ho scaricato per ottenere il bonus da vacanze GoTrips Travel Planner è l'applicazione di Google che non so come faccia riesce a comprendere quando state facendo un viaggio dalle vostre email dalla messaggistica dove soggiornerete quali saranno i vostri voli ed è veramente molto comoda perché vi da tutto l'itinerario ProMemoria sarà un'app per aggiungere dei ProMemoria immagino su Idealista sto cercando Casa ultimamente quindi ci sono vari annunci per la ricerca della casa Libero Mail è un altro client si dice così di posta elettronica e infine nella cartella Samsung ci sono varie cose che non conosco bene tipo SmartThings non so bene a cosa servono Internet Samsung non l'ho mai usata perché preferisco usare Chrome Samsung Health se hai per esempio degli smartwatch della Samsung puoi collegare le funzioni insomma e non so se tra l'altro sia possibile collegare anche smartwatch di altre marche se lo sapete fatemelo sapere Galaxy Warball è uno store dove potete acquistare oggetti tipo appunto gli smartwatch Samsung members non ho idea di cosa sia ma credo una community un forum ma forse della Samsung pen app riguarda il pennino e varie funzioni che è possibile svolgere con il pennino Samsung Global Gold non mi chiedete cosa sia perché non lo so Galaxy Store è come il Play Store quindi dove potete scaricare delle applicazioni Galaxy Teams è l'applicazione per modificare i temi del telefono molto carina e suggerimenti ti dà dei suggerimenti relativi al telefono a sopra questo Samsung Gold perché ah ok grazie per l'aiuto volto a raggiungere gli obiettivi globali questa applicazione permette di conoscere meglio gli obiettivi globali per donare denaro ok poi abbiamo la tastiera Microsoft Swift Key che preferisco rispetto alla tastiera di Samsung Game Launcher è un'applicazione unica all'interno della quale ci sono tanti giochi ok non ci ho mai giocato però c'è Brainwash Merge Number Puzzle Kasha Club Samurai Flash e Bezzy Bez Foto 20 non lo so i giochi servono solo per scaricare la batteria mi domando perché esistano tra l'altro questo smartphone se ha un difetto è la batteria che dura veramente poco vabbè Edge Touch è un'applicazione per evitare che accidentalmente si tocchino cose che sono sullo schermo ai lati perché questo smartphone ha lo schermo curvo devo dire che non sono sicura che serva realmente perché in realtà ho ridotto la tastiera che era la mia principale preoccupazione quindi non lo so magari la disinstallo poi abbiamo Bixby Routines e Bixby sono applicazioni dell'intelligenza artificiale preimpostata della Samsung che consentono di impostare appunto delle routine del tipo If they stand at quindi se lo smartphone è impostato in modalità silenzioso allora abbassa il livello della luminosità per esempio imposta il filtro luce blu eccetera spazio R è ok un'applicazione della Samsung dove si possono creare oh ecco questa sarei io con il mio avatar ciao vedete che carino questo vestito e vabbè oh ragazzi secondo me questi sono un po' useless comunque password safe è carina è un'applicazione che ho scaricato serve per tenere traccia di tutte le vostre password ricordandovi solo quella di accesso e poi c'è picture link che è sempre qualcosa che ha a che fare con la realtà virtuale se voi siete più esperti di questo telefono rispetto a me sicuramente fatemi sapere a che cosa serve questa applicazione perché io veramente non lo capisco small switch invece serve per switchare da un telefono a un altro i vari contenuti quando si cambia telefono penso oppure quando si vogliono trasferire i dati e fotocamera emoji AR fa sempre parte di spazio AR quindi in realtà aumentata e creazione di avatar credo e basta credo di avervi fatto vedere tutto fatemi sapere se ci sono delle applicazioni carine che potete consigliarmi soprattutto per quanto riguarda il fotoridocco oppure qualcosa di divertente che magari non siano giochi perché non mi piacciono tanto i giochi sul cellulare qualcosa di utile insomma e detto questo se vi è piaciuto il video naturalmente lasciate un mi piace non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando la campanella per non perdere le prossime notifiche soprattutto se non siete ancora iscritti o se siete iscritti ma non avete le notifiche attivate naturalmente e spero che questo video vi abbia fatto un po' rilassare se vi è piaciuto noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video poti ne potosi poti ne potosi poti ne potosi a Grazie a tutti.